Ciao, sono Federica, lavoro qui al nodo di maestre da un po' di anni, faccio parte del settore della manutenzione, cioè proprio ci occupiamo dell'infrastruttura, dell'armamento ferroviario dove sopra circolano dopo il materiale rotabile e i treni. Il mio percorso di studi è stato un diploma in un istituto tecnico per geometri e questo ma soprattutto per partecipare alla selezione d'ingresso. Io sono cresciuta lavorativamente parlando da quando sono in questa azienda perché sono partita da operatrice a manutenzione semplice e adesso sono a un ruolo di capo tecnico, cioè di gestione, gestisco, organizzo, preparo le lavorazioni per il resto della squadra. Mi piace anche questo lavoro perché lavoriamo spesso in gruppo e il lavoro di squadra aiuta e accresce perché c'è una collaborazione totale di tutti, deve essersi per forza. Grazie! 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 Grazie a tutti